Ciao a tutti ragazzi di YouTube, io sono il vostro Sermatics90 e ci sono qui oggi in questo nuovo fantastico video di Warhammer and Times Vermintide ragazzi Allora, siamo accompagnati qui insieme al grande Muge di l'Ultimate Mariner Napoletani in questo fantastico gameplay ragazzi In cui abbiamo praticamente registrato la prima partita che abbiamo fatto in questo fantastico gioco e nel frattempo lo stiamo studiando A breve ragazzi uscirà anche direttamente il video recensione in cui spiegherò tutto quello che è dal gioco Questo ragazzi è solo il gameplay che ho fatto insieme a Muge e Dean Quindi ragazzi vi lascio il gameplay, spero che il video vi piaccia, lasciate un bel like, commentate e se non iscritti, beh iscrivetevi Noi ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi, bella lììììì! Ah siamo po' tre! Altro che bot! No è 4 siamo! 2,3,4 Ok Bandoletani, allora tab dove siamo? No siamo 3 in partita quindi ci ha messo il bot Ah sì sì no è il bot Cos'è Thomas con l'omino con il punto esprimativo? Che figata cazzo A beh Cazzo il nano è forte però E' bellissima la prospettiva Dall'umano al nano Il nano che vede tutti molto bassi E' bellissima queste cose Ma poi è anche molto forte quando lo ha lasciato Ho visto che gli altri tendono a dare due o tre punti Invece lui ti secca subito C'è proprio il primo colpo Perché poi è proprio smimbra Taglia arti Oddio un po' la scena maca però sto umano con le buttelle di fuori Donna si vede un braccio Cose volare Starboard Testa Come va dietro Cazzo 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 che veloce oddio c'è l'elfo che mi sa che ha un'abilità che si può spostare di lato velocemente oh cazzo è bianco generale ma star di stupidi scaven sto preparando gli hamburger di top proprio così gli stavo tagliando tutti i piedi cazzo questo è giusto cazzo speriamo la presa un po' eh cazzo cazzo ma pensavo che fosse qualcosa di merda di io qua c'ho il tipo infilzato che non riuscivo a passare ah senza testa poi cioè guardale senza testa sto tipo attenzione all'assassino e chi è che sta sparando cazzo 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 spacca tutto spacca tutto è fluido proprio ha fatto proprio un bel lavoro davvero ma veramente è fluido non rallenta un cazzo proprio neanche se c'è il pinone di scaven guarda che è difficile farlo così eh eh devo bere io qua comunque alla Left 4 Dead la vita proprio la desideri mamma ah no che cazzo fai oh qui c'è della oh buono fammi vedere giù un uomo oh qui sono tutti forti eh oh cazzo figlio di puttana e lancia griffumogeno sto bastardo si si ti assalta oh eccolo eccolo oddio l'ho preso l'ho preso intanto guardiamoci alle spalle perchè potrebbe arrivare l'assassino da dietro infatti intanto mi giro guarda oh ciccolato madonna ma comunque i movimenti sono poco fighi quando li affetti cazzo cazzo merda cazzo oh l'affondo che è una figata cazzo cazzo un altro test figata dai nada non credo roba cazzo no no io tranquillamente cazzo 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 ok qui è apposta cazzo cazzo oh caricate le armi perchè comunque arriviamo lì quel caffino ti ricordi mhm mhm vai virkaz cazzo 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 mi sa che ti arriva se ti avvicini col destro eh aspetta cazzo, dobbiamo portare 3 bombe provo a prenderle io e voi coprite eh un cazzo, già stanno arrivando madonna prendila andiamo 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 no a cazzo aiutatemi come sei? ma qua sto portando le bombe vai 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 aiuto coso, t'ho esploso in mano perchè? perchè t'ho esploso in mano? devi fare presto forse o c'è qualcuno che mi spara o sono i nostri che ti hanno sparato o merda vai 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 ma donna bella vai nano oh cos'è? qua c'è della roba eh? oh bomba dai corri 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 speriamo che non mi scoppia oh qua c'è un kit medico se vuoi muso aspettilo come si fa? col sinistro ecco oh cazzo uno solo dobbiamo portarlo eh ragazzi uno solo dobbiamo portarlo eh ragazzi vai uno solo ragazzi l'ho fatta dai l'ho fatta dai madonna finora non siamo mai arrivati fino qui oh occhio dietro qua quanti non arrivano? c'è anche l'assassino oddio anche davanti no ma il trascino mi sto trascinando via via di puttana ah mi sta portando via ah mi sta portando via ah mi sta portando in un angolino poi in mezzo alla gente madonna mia madonna no va la via 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 iniziate le mazzate iniziate a prendere le mazzate che è questa roba qua? la merda ce lo sistemo io pfff spari no thomas a terra vuole aiutare ah cazzo c'è quello grosso vieni amico mamma mia madonna ma i topi quei scavi quelli grossi al controllo di danno non fanno niente vittimo ragazzi sei troppo forte cazzo che hanno fatto veramente bello è stata entusiasmante questa parte qua eh cazzo una freccia mi ha piantata in testa questo è bravo scarcere qua effettivamente guarda è il bot thomas ah è il bot eh mi sa che il bot tocca giocare col bot muge oh no 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 a bravo cazzo la finba Ah, cazzo! Non t'era bello! C'è contro di te! C'era con te! No, mi ha fatto volare! Cazzo, cacca a trovare altre bombe! Non puoi solo essere un rato! Ah! Cazzo! Non ce la conti ora! Ah! Cacca troia! Non ho più armi a tutta, cazzo! Mi sto sparando tutte le frecce della balestra che c'ho! Cazzo! 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 Giovanni se lo faccio 15 tape! Oh! Dio. tenterò davvero un po' anche questa abitazione fantasy è veramente figa madonna se dovessi vado scappare però non andare avanti poco lo dice il gioco di te fa che ci sono un sacco di canelli mamma che bello tutto non c'è un cazzo su non so cosa si può andare a poco testo prato un povero ratto eccole eccoli no 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 c'è quello con la mitragliatrice e chi è? dove stavo? dietro di me dietro di me fai che sta dormendo no dove è oh? qui e qui di fiancabio praticamente vieni si passa di qua sono arrivato a fiumi di gente no 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 ho cazzo mi ha sfondato con la mitragliart trois Oh luce in terra Grazie Cazzo Bella raga bella Puro Donna che ambientazione Bellissimo No ma non c'era Come faccio a dargliela Col tasto destro Ma cazzo Oh vabbè le munizioni mi servivano Ma chi è? Ma che marciano Oddio dalla porta Oh l'assassino L'assassino dentro Doni inquietanti eh Mamma mia Oddio 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 Cazzo che cazzo Cosa Musa Io non ho capito cos'è che appena successo Cioè io ho visto un'esplosione e poi niente E ti giuro non so cosa sia successo Eri in mezzo a volte ho visto un'esplosione e non ho visto più nessuno Mi sono ritrovato da solo Che bestiale bestiale cazzo E ancora Si cazzo Di nani di merda Aspettate ragazzi Buone cadroni Aia chi è? Mi posso che mi chiedi una penna Fermiamoli qua Fermiamoli qua Che no? Che tu no? Che's Che No no Carne da macello Proprio Pazone Mamma mia Ah beh praticamente l'ondata l'abbiamo fermata noi qui sulla porta Sì Oddio qua c'è uno senza gambe che bello Qua? No ma enormi gli spazi sono enormi cioè Cazzo da fuori c'è barna casettina piccola invece entri dentro boom Attento dietro questo se lo sa Vabbè qua Qua soldi interviamo sempre dopo non ci becchiamo mai niente Né pozione niente qui Oh cazzo guarda che paesaggio che bello Pitetti no Vieni a vedere cazzo Vieni a vedere? Finisci di picchiare quelle Ma è morto ma Guarda qui Ma madonna No bellissimo Ragazzi guarda la luna e gli effetti della luce Le ombre Guarda che spettacolare È spettacolare Ma che cazzo ha nominato Veramente bello Merita merita davvero eh Mamma mia ragazzi Questo qua è veramente Ah bellissimo Praticamente le porte o le apri o le spacchi direttamente Oh oh il ragazzo dell'impero proprio che è anche lui sguai una spada e inizia a sparando spadati in giro non guardi in faccia nessuno io poi che sgueri un fuoco amico dai eravamo morti neanche dopo il primo passo è meglio che bevo uh cazzo fai sto soccoso madonna mia ragazza ma poi proprio entriamo di cattiveria dentro oh cazzo oh oh merda oh ma spaccatela la porta tranquilli ci sei ok si si ci sono sono dietro sono piccolino ma ci sono adesso vai per l'inferno no sali sali che salmi a partire dove cazzo andiamo a finire non lo so ma non vedo di questo ma guarda 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 il ratto la sopra guardalo da solo nel tetto adesso lo butto giu ma l'ho preso madonna dove cazzo siamo andati a finire adesso non so questi pezzi saranno boss finale dai ma sicuro magnus tower si 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 qua a palla si si qua dentro muoverai ecco gli altri ma sembra sai quando molto picchio mi esce una cosa da premere eh penso che sia tipo per parare o per controbattere e controbattere fare il controattacco tipo eh si penso no però io mi curo cazzo io qua no si si se c'è poca vita curati e se no poi dopo ma chissà che cazzo eh loro continuano andare avanti e spaccare tutto non arriva però non c'è più niente né pozioni né scavo non c'è più niente eh si fottono pure tutto però si 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 non lasciano niente tranquillamente madonna ma è enorme sta ma che cos'è questa una porzione della forza la vuoi tu? eh no tu già sei una bella diciamo no più che altro c'ho quella addosso quella della velocità io che meno male quella mi servo ma cazzo l'ho presa io ma come si fa a dare la roba? ma infatti non ho capito come si fa in teoria si può fare ma non so come qua c'è qualcosa cosa è questo? oh per esempio una velocità ah qua c'è le munizioni se ti servono muge dove sei? qua ok ma questi corrono che cazzone stanno andando andiamo 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 bravo ecco trema tutto non è niente di buono eh secondo me oh madonna cos'è mega co oh kit medici kit medici infatti noi cazzo famo? eh oh ma no musa sei proprio andato ehm 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 oddio dove sei? vieni di qua sei da quello cazzo ah io finchè riesco li butto giù ah ma probabilmente fate il giro oh no 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 ah ah è un buon hit esattamente che saliamo saliamo stanno arrivando arrivando da qua dove cazzo vanno la no ma No. Mi sono finito. No. Giustardo. Ah! Madonna. Madonna! Sai che ti arriva a giustare? Secondo me, i respawn di questi mostri perché se ti metti al punto giusto escono e li ammazzi tutti Guarda, guarda! 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 Ma apparentemente non ho capito l'obiettivo da adesso cosa dovremmo fare Madonna no Quanta gente c'è? Da le spadate vedi tutto nero adesso eh ma che cazzo stiamo si capisce ce n'è uno dietro mutilate carne da macello si si no veramente ah dobbiamo andare di sotto ah vieni vieni si è dentro già te ottimo vai via oh ma non finisce più eh cazzo sei lungo madonna questa era la torre l'abbiamo oggi loro non è una cosa è successo c'è il trattore stagione è scherzo abbiamo finito oh siamo salvi oddio attenzione no chi è stato attaccato l'assassino ce l'abbiamo fatta mamma mia dopo una serata passata a provarci che cazzo di roba vai livello sono uscito a livello nuovo anche io anche io cosa cazzo sia però oh guarda quasi a livello 2 un received cos'è questo? un emblema cos'è un piatto di roba zippa zippa Ronald's Bulls madonna ma che figata ragazzi ah roll capito te la giochi con i dadi chissà cosa fai un'arma nuova dai fammi uscire qualche bella un'ascia che cazzo ho sbloccato io un'ascia ho sbloccato non so cosa vediamo forse è un tipo di ascia oddio io ho il karakitrund l'archibuccio cos'è? io ho sbloccato un'ascia stupenda ma che roba figa hai visto che è un RPG che ti dicevo? ma bellissimo cazzo se vedessi che ascia che ho sbloccato ma è bellissimo guarda sono a bocca aperta Matteo veramente veramente a bocca aperta spettacolo cazzo c'è e adesso possiamo rifare la stessa mappa oppure andare avanti no basta adesso no ma vedi ti dici di fare proprio la next ma forse è ragione eh sì perché basta fare che nell'abito c'è solo una mappa che c'è solo una mappa Grazie a tutti